Ciao ragazzi e ciao ragazze, in questo video tutorial andiamo a vedere come fare questo bordo all'uncinetto a forma di cuori. Questo bordo è veramente molto grazioso, semplice da realizzare e si può veramente utilizzare per tantissimi lavori. Anche alla fine ve lo dico, si può utilizzare per i bordi delle copertine, si possono utilizzare per fare il bordo dei nostri vestiti sia sopra che sotto. Se voi andate a guardare nei miei tutorial, ci sono i miei vestiti estivi, una volta che avete terminato la lavorazione potete lavorare questo bordo sia appunto sotto come bordo sotto, ma anche per fare il colletto, quindi riprendere il bordo sopra e fare il colletto che scenda a forma di cuore. Quindi veramente lo potete utilizzare in tantissime maniere, quindi vedete che non solo per le copertine lo potete utilizzare ma veramente per tantissime cose. E spero vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti, adesso vi lascio il tutorial. Allora per fare questo bordo dobbiamo andare ad avere un multiplo di 18, quindi 18 e lo moltiplicate, poi alla fine dovete aggiungere 4 punti. Quindi io vado a mettere su per questa dimostrazione 58 punti, allora essendo un bordo voi i punti dovreste averli già su. Io in questo caso per fare la dimostrazione dovrò metterli su, fare il primo giro di maglie basse e poi iniziare la lavorazione. Quindi solo in questo caso io dovrò mettere, allora il multiplo di 18 più 4 sono in questo caso 58, perché ho fatto 18 più 18 più 18 più 18, poi alla fine ho aggiunto 4 punti. Però in questo caso io dovendo iniziare il lavoro con le catenelle dovrò aggiungere un punto, perché? Perché a me servono alla fine per la lavorazione il multiplo di 18 più 4, che sono 58 punti, avrò bisogno di 58 maglie basse inizialmente. Però dovendo mettere su le catenelle io dovrò aggiungere un punto, quindi andare a 59 punti, perché quella catenella io la perdo nel girare per poter iniziare il lavoro, ok? Quindi avrò comunque 58 maglie, non la posso scrivere qua, perché se voi avete già le maglie, per dire state facendo una copertina e dovete fare, e quindi dovete solo fare questo bordo intorno alla copertina, per capirci, se io vi dico 18 più 5, dopo vi ritrovate una maglia in più. Quindi il multiplo è 18 più 4, io in questo caso ne metterò su 59 solo perché devo iniziare il lavoro, ok? Quindi è solo per questo motivo. Però adesso andiamo a fare il primo giro, dopo aver messo su le catenelle, io in questo caso io scrivo 58 ma ne ho messe su 59 perché una mi serve per girare. Vado a fare il primo giro e ve lo scrivo uguale 58 maglie basse, così non potete sbagliare, dovete ricordarvi che devono essere per forza 58. Detto questo, scusate se mi sono prolungata ma era importante dirlo, io che ne ho su 59, la prima la perdo perché devo andare a lavorare qua e questa io non la utilizzo come maglia, vado direttamente nella seconda e andrò a fare 58 maglie basse. Quindi in ogni catenella vado a lavorare una maglia bassa perché devo avere comunque dove poter andare a lavorare, ok? Quindi devo iniziare da qualche parte e faccio una base con un giro di maglie basse. Voi in questo caso, per dire, state facendo una copertina, vi fate magari tutto un bordo di maglie basse, mi raccomando calcolate però che ci sia chiaramente il multiplo. Se non c'è e magari, che ne so, ve ne manca una o due, fate un aumento in modo che poi quando andate a lavorare il prossimo giro siano esatte le maglie. A questo punto andiamo avanti così, fino alla fine del giro. Ok, finito il giro di maglie basse, andiamo a fare il secondo giro. Dobbiamo andarlo a lavorare in questa maniera. Adesso faccio una catenella e giro il lavoro. Voi sapete che la catenella io la uso solo per girare il lavoro e non come maglia bassa. Quindi, rientro subito nella prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Faccio una, due catenelle, salto una maglia di base, due maglie di base, vado nella terza e vado a fare una maglia bassa. Poi ancora, una, due catenelle, salto una maglia di base, questa, salto la seconda e vado nella terza e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo, una, due catenelle, salto una maglia di base, due maglie di base, vado nella terza e vado a lavorare una maglia bassa. Una, due catenelle, salto una, due, vado nella terza maglia e lavoro una maglia bassa. Vado avanti così per tutto il giro. Ok, finito il giro, finito chiaramente con una maglia bassa, andiamo a fare il terzo giro, che sarebbe, si può dire, il primo giro, diciamo, della nostra lavorazione. Quindi vado a fare cinque catenelle, che sarebbero tre catenelle come se fossero una maglia alta e due di separazione. Quindi vado a fare una, due, tre, quattro e cinque e giro il lavoro. A questo punto salto, no scusate, adesso nel primo foro, quindi qua proprio nel primo foro, vado a fare una maglia bassa. Poi faccio una, due, tre, quattro catenelle e nel prossimo foro, delle due catenelle, vado a fare una maglia bassa. Una, due, tre, quattro catenelle, prendo il filo, salto, allora io sono qua, salto questo foro, lo salto, vado nel seguente. Quindi, questo foro lo salto, vado nel seguente e vado a fare cinque maglie alte, quindi una, vado a fare la seconda, vado a fare la terza, vado a fare la quarta, vado a fare la quinta. Quindi vedete cosa ho fatto? Io ho lavorato cinque catenelle, una maglia bassa nel primo foro, quattro catenelle, una maglia bassa nel secondo foro. Questo foro l'ho saltato, questo, questo qui l'ho saltato e sono andata nel seguente a fare cinque maglie alte. Adesso faccio una, due, tre, quattro catenelle, questo foro lo salto, vado nel seguente e vado a fare una maglia bassa. Quindi ho saltato un foro prima delle cinque maglie alte e un foro successivo alle maglie alte, ok? Adesso faccio una, due, tre, quattro catenelle e subito nel foro successivo vado a fare una maglia bassa. Adesso faccio ancora una, due, tre, quattro catenelle e subito nel foro qua successivo vado a fare una maglia bassa. Quindi ho fatto tre maglie basse, uno in ogni foro successivo. Adesso faccio di nuovo, adesso vado a ripetere questo gruppo. Quindi cosa faccio? Vado e faccio una, due, tre, quattro catenelle, prendo il filo, questo foro lo salto, vedete il primo foro lo salto, vado nel seguente e nel seguente vado a lavorare cinque maglie alte. Una, due, tre, quattro e cinque. Vedete che ho ripetuto questo, questo qua. Adesso dobbiamo ripetere questo, ok? Quindi saltiamo un foro, nel prossimo vado a fare una maglia bassa, quattro catenelle, una maglia bassa, quattro catenelle, una maglia bassa e così via. Adesso lo facciamo insieme a questo pezzo. Allora vado a fare quindi una, due, tre, quattro, salto questo foro lo salto. Vado nel seguente e vado a fare una maglia bassa. Una, due, tre, quattro, prossimo foro, subito questo, vado a fare una maglia bassa. Uno, due, tre, quattro, prossimo foro, questo qui subito, faccio la terza maglia alta. Quindi, tra il gruppo di cinque maglie alte, saltiamo un foro, facciamo tre maglie basse consecutive separate da quattro catenelle, invece poi torniamo per farle cinque maglie alte e quindi saltiamo il foro. Andiamo proprio a ripetere questo, che è veramente molto molto semplice. Questo. Andiamo a ripeterlo e poi vi faccio vedere come terminare il lavoro. Arrivata alla fine del giro, io ho fatto il mio ultimo gruppo di cinque maglie alte, ho fatto quattro catenelle, ho saltato un foro e sono andata nel successivo e ho fatto una maglia bassa. Adesso faccio una, due, tre, quattro catenelle, vado nell'ultimo foro e faccio una maglia bassa. Però, all'inizio noi abbiamo fatto, come vi avevo detto, quindi vedete che abbiamo anche qua il gruppo, ho saltato un foro, ho fatto una maglia bassa e di nuovo una maglia bassa, come abbiamo fatto di qua, no? Due. Però qui avevo fatto all'inizio cinque catenelle e vi avevo detto che erano tre catenelle per una maglia alta e due catenelle di separazione. Quindi io adesso vado a finire nello stesso modo, vado a fare una, due catenelle, prendo il filo, vado nella maglia bassa e faccio una maglia alta. È come se avessi fatto le cinque catenelle, solo che mi ritrovo in alto. Andiamo a fare adesso il quarto giro. Quarto giro lo facciamo così. Allora, innanzitutto facciamo ancora cinque catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque. Giro il lavoro. Salto, questa volta salto un foro. Questo foro lo salto, vado nel seguente. Questo, vedete, lo salto, vado nel seguente. E faccio una maglia bassa. Quattro catenelle. Una, due, tre, quattro. Prendo il filo, salto questo foro, qua non lavoro. Vado nella prima maglia alta. E vado a lavorare nella maglia alta. Vado a lavorare due maglie alte. Quindi, una, prendo il filo e nello stesso punto vado a fare la seconda. Quindi, faccio un aumento. Prendo il filo, vado nella seguente. E vado a fare altre due maglie alte. Quindi, una. Prendo il filo, rientro e vado a fare la seconda. Quindi, in totale, sotto ho due maglie. Sopra ne ho quattro. Quella centrale, la lavoro solo una volta. Quindi, la lavoro singola. E faccio una maglia alta. E ho cinque maglie alte. Prendo il filo, vado nella seguente, qua. Vado nella seguente e faccio due maglie alte. Una, rientro e vado a fare la seconda. A questo punto, vado nell'ultima maglia alta, qua. E vado a fare due maglie alte, anche qui. Quindi, una. Rientro nella maglia alta e vado a fare la seconda. In totale, ho nove maglie alte, perché ne ho fatte due, quattro. Qui l'ho fatta a singola, quindi cinque. Poi, altre due, sette e due, nove. Adesso, vedete che qua questo l'abbiamo saltato. Andiamo a fare. Una, due, tre, quattro. Salto questo foro, vado nel seguente. E vado a fare una maglia bassa. Una, due, tre, quattro. Questo foro lo lavoro, vado a fare una maglia bassa. Quindi il successivo, vedete. Adesso faccio una, due, tre, quattro. Questo foro non lo lavoro. Prendo il filo, vado nella prima maglia alta e vado a fare quello che abbiamo fatto prima. Quindi, una, rientro e vado a fare la seconda. Vado nella prossima maglia, qui, vado a fare una. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia e vado a fare la seconda. E sono quattro. Questa la lavoro una volta sola, quindi faccio solo una maglia. Nella seguente vado a fare due maglie alte. Quindi una, rientro nella stessa maglia e vado a fare la seconda. Di nuovo vado nell'ultima maglia, faccio una maglia alta, rientro e vado a fare la seconda. Adesso continuiamo in questa maniera. Lo facciamo insieme, va? Così almeno siamo sicuri. Andiamo, facciamo una, due, tre, quattro. Adesso saltiamo questo foro, andiamo nel seguente. Facciamo una maglia bassa. Una, due, tre, quattro. Salto questo foro, faccio una maglia... Cioè, scusate, entro nel foro successivo e faccio una maglia bassa. Vedete che sono entrata nel foro successivo. Una, due, tre, quattro. Prendo il filo sull'uncinetto, salto questo foro e vado a lavorare queste maglie. Quindi entro nella prima e ne faccio due. Una, rientro e vado a fare la seconda. Prendo il filo, entro nella seguente e ne faccio due. Rientro, vado a fare la seconda. Quella centrale la vado a fare una volta sola, la lavoro singola. Vado nella penultima e nel lavoro due. Una, rientro e vado a fare la seconda. Vado nell'ultima maglia alta e faccio una. E di nuovo rientro e vado a fare la seconda. Faccio una, due, tre, quattro catenelle. Salto questo foro perché questo lo saltiamo sempre. Andiamo nel seguente e faccio una maglia alta. Cioè, scusate, una maglia bassa. Poi, qui sono arrivata alla fine. Quindi cosa faccio? Faccio una, due catenelle. Prendo il filo. Salto una, due. Vado nella seguente. E vado a fare una maglia alta. E questo, diciamo, è quello che vedete che abbiamo fatto qui. Abbiamo fatto cinque catenelle che sarebbero tre di maglia alta e due di separazione. E qui abbiamo fatto la stessa cosa. Adesso andiamo a fare il quinto giro insieme. e andiamo a lavorare in questa maniera. Allora, faccio... Allora, giro il lavoro e faccio subito nella maglia alta che ho appena lavorato, qui, vado a fare una maglia bassa. Poi faccio una, due, tre, quattro, cinque catenelle. Prendo il filo. Salto qui. Vado direttamente nella prima maglia alta. E vado a lavorare, qui nella prima maglia alta, vado a lavorare due maglie alte. Una. Prendo il filo, rientro e vado a fare una seconda maglia alta. Nella prossima vado a fare due maglie alte. Una. E due. Ancora vado nella seguente e faccio due maglie alte. Una. E due. E nella seguente ancora vado a fare due maglie alte. Una. E rientro nello stesso foro e vado a fare la seconda. Quindi ho due, quattro, sei, otto maglie. Quella centrale, questa, la lavoro solo una volta. Faccio una maglia alta. E sono nove. Adesso, nelle ultime quattro, andiamo a lavorarla ai doppi. E quindi, rientro nella prossima e vado a fare una. E nella stessa vado a fare una seconda maglia alta. Nella seguente vado a fare due maglie alte. Una. Rientro nello stesso foro e vado a fare la seconda. Di nuovo, due maglie alte nella prossima. Una. Rientro e vado a fare la seconda. Ultima maglia. Due maglie. Una. Rientro e vado a fare la seconda. In totale, avrò diciassette maglie. Perché due, quattro, sei, otto aumenti. Due, quattro, sei, otto aumenti di qua. E quella centrale. Quindi, otto, otto, sedici, una, diciassette. A questo punto, faccio cinque catenelle. Allora, una, due, tre, quattro, cinque. Qui non lavoro, vado in questa e faccio una maglia bassa. Una, due, tre, quattro, cinque. Vedete? E adesso andiamo a rifare queste maglie. Quindi, nella prima maglia, salto questo foro, vado nella prima maglia e vado a rifare questa, questa cosa. Quindi, due maglie alte nella prima. Due maglie alte nella seconda. Una, due. Due maglie alte nella terza. Una, due. Due maglie alte nella quarta. Una, due. Una maglia alta nella quinta. Prendo il filo, vado nella successiva e vado a fare due maglie alte. Una e due. Due maglie alte nella seguente. Una, due. Due maglie alte nella penultima. Una, due, tre, quattro, cinque. Salto questo foro, vado nel seguente, quello dove ci sono tra le due maglie basse. Una maglia bassa. Una, due, tre, quattro e cinque. E arrivato a fare qui gli aumenti delle maglie alte. Quindi, andiamo a ripetere questo per tutto il vostro giro. Io, in questo caso, l'ho quasi terminato. Ok. Riotti alla fine del giro. Ci troviamo qua con due fori, no? Che abbiamo fatto all'inizio. Allora, adesso facciamo una, due, tre, quattro, cinque. Andiamo, allora, nella terza catenella. Una, due. Nella terza catenella a fare una maglia bassa. Perché sotto di qua avevamo una maglia alta e abbiamo lavorato nella maglia alta. In questo caso andiamo nella terza catenella iniziale e facciamo una maglia bassa. E ci ritroviamo con la stessa lavorazione. Andiamo a fare l'ultimo giro per la formazione del cuore. Sesto e ultimo giro. A questo punto lavoro in questa maniera. Giro il lavoro. Faccio una maglia bassissima nella maglia bassa. Poi vado qui nel foro. E vado a lavorare sei maglie basse. Quindi, una, due, tre, quattro, cinque, sei. Una volta fatte le sei maglie basse, vado nella prima maglia alta e faccio una maglia bassissima. Quindi, prendo il filo, esco ed esco. Prendo il filo sull'uncinetto e salto una, due, tre, vado nella quarta e faccio nove maglie alte. Quindi, vado a fare la prima. Una. Vado a fare la seconda, sempre nello stesso foro. Vado a fare la terza. Vado a fare la quarta. La quinta. Rientro, vado a fare la sesta. Rientro, vado a fare la settima. Rientro, vado a fare l'ottava. Rientro, vado a fare la nona. Quindi, nove maglie alte. A questo punto, faccio così. Salto una, due, tre. Nella prossima, quindi nella quarta. Vado a fare una maglia bassissima. Di nuovo. Vedete che dobbiamo formare la parte del cuore. Prendo il filo. Salto tre maglie. Quindi, una, due, tre. Vado nella prossima, quindi nella quarta. E vado a fare nove maglie alte. Una. Vado a fare la seconda. Due. Tre. Rientro, vado a fare la quarta. Rientro, vado a fare la quinta. La sesta. La settima. L'ottava. E la nona. Anche qua salto una, due, tre. Vado nell'ultima e faccio una maglia bassissima. Vedete? A questo punto vado a fare, dunque, qui nel foro andiamo a fare sei maglie basse. Quindi, allora, una, due, tre, quattro, cinque, sei. Vado a fare tre catenelle. Una, due, tre. Rientro in questa maglia bassa e faccio una maglia bassissima. E faccio un picot. Passo al foro successivo, quindi la maglia bassa non la lavoro. Vado al foro successivo. E vado a fare sei maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. Vedete come viene così. E adesso andiamo a ripetere questo. La formazione del cuore. Lo facciamo ancora una volta insieme. Una maglia bassissima nella prima maglia. Poi, prendo il ferro, oddio, prendo il filo sull'uncinetto, scusate. E vado a fare, nella quarta, nove maglie alte. Quindi, una, due, tre. Vado nella quarta e faccio nove maglie alte. Una, due, tre, quattro. Quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Salto una, due, tre, nella quarta, vado a fare una maglia bassissima. Prendo il filo sull'uncinetto, salto una, due, tre, nella quarta, vado a fare nove maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Salto tre, vado nell'ultima maglia alta e faccio una maglia bassissima. Adesso, qui, nel foro, andiamo a fare sei maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Una, due, tre catenelle e andiamo a fare il picot. Quindi, rientro nella maglia bassa sotto, prendendo due stanghette e vado a fare una maglia bassissima. Adesso, vado nel foro successivo, vado a fare sei maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. E andiamo a ripetere questo per tutta la lunghezza del vostro lavoro. Arrivati alla fine del giro, ci troviamo in questa situazione. Qui andiamo a fare nel foro sei maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. E nella maglia bassa andiamo, entriamo e facciamo una maglia bassissima. Dopodiché abbiamo terminato la nostra lavorazione. Quindi, su sei giri, che poi io ne ho uno in più per le catenelle, per le maglie basse, perché in teoria voi dovreste avere il vostro lavoro già pronto, ma magari dovete farle, quindi io lo inserite nella lavorazione. Con sei giri avete i vostri cuoricini. Sono molto, molto graziosi, a mio parere. Spero vi piaccia questo bordo. Spero possiate e riusciate anche a utilizzarlo nelle vostre lavorazioni. Come vi dicevo, potete utilizzare i bordi, li potete utilizzare per tantissime cose. Quindi, per copertine, per, che ne so, se fate dei cuscini, il bordo dei cuscini, per il sotto dei vostri vestiti, per magari il sopra dei vostri vestiti. Quando noi andiamo a fare anche nei nostri vestitini, che ho già fatto anche i tutorial, quelli estivi, volendo, una volta che abbiamo lavorato il nostro vestito, riprendere il bordo sopra della nostra lavorazione e inserire il bordo che scende a forma di quale. Quindi, veramente l'utilizzo lo potete utilizzare per tantissime cose. Quindi, anche per il sopra dei vostri vestiti, ma anche per il sotto dei vostri vestiti, per le gonne, insomma, per tantissime cose. Quindi, spero vi piaccia, un grosso bacio e al prossimo tutorial. Ciao!